Una giornata di digiuno e preghiera per la pace, è quella indetta dal Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca in contemporanea alla chiesa che è in Gerusalemme come proposto dal Cardinale Pier Battista Pizzaballa. È importante e necessaria la preghiera di fronte all'insensatezza e alla violenza della guerra, spiega Monsignor Migliavacca che ha chiesto che ogni messa il 7 ottobre prossimo in tutte le parrocchie della diocesi venga celebrata con l'intenzione per la pace e la giustizia affinché si fermino le ostilità in tutto il mondo con un pensiero per l'Ucraina e in particolare per tutto il Medio Oriente. Ogni parrocchia inoltre è libera di promuovere ulteriori momenti di preghiera e riflessione come per esempio il Rosario per la pace secondo le proprie possibilità. Sarà un'occasione anche per pregare per il viaggio che alcuni vescovi toscani assieme ad alcuni giovani faranno in Terra Santa dal 14 al 17 ottobre. Nei giorni scorsi, proprio per l'acuirsi del conflitto in Medio Oriente, i frati francescani, di cui due della Verna, erano stati bloccati prima della partenza per la Terra Santa. La delegazione, dopo 800 anni, avrebbe portato per la prima volta nella storia le reliquie di San Francesco d'Assisi a Betlemme e a Gerusalemme. Uno stop per adesso temporaneo, ancora senza una data.